Un saluto ai miei amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Oggi ci è venuto a trovare un ospite d'eccezione. Benvenuto a Maurizio Lombardi. Ciao Maurizio, benvenuto. Benvenuto al Corriere dello Sport per la prima volta. Per la primissima volta. Ah, non te l'ho confessato da un po' che volevo averti mio ospite, quindi sono contento. Sei abbastanza indaffarato per fortuna, diciamo, perché il motore del cinema e della serialità è ripartito finalmente dopo la pandemia, insomma, già dopo di tempo, quindi sei molto impegnato. Mi fa piacere averti però qui oggi. Grazie, anche per me. Allora, per parlare di una cosa attuale, ma poi anche per raccontare un po' la tua già importante carriera. Allora, io partirei dalla stretta attualità e da questa serie TV Mediaset che si chiama Lora, no? Sì. Che è una serie TV, tra l'altro, che ci riguarda anche da vicino, insomma, no? Perché tu interpreti appunto un giornalista. Allora, Lora racconta la storia di questo giornale, storico che è nato negli anni 50 nella Sicilia e che per la prima volta ha portato in prima pagina la mafia, no? Ha raccontato la mafia, ha raccontato i meccanismi della mafia rischiando moltissimo, no? Attentati e cose varie. Allora, prima di tutto raccontami un po' il tuo personaggio che, insomma, ha questa peculiarità che non ha la voce, giusto? No, assolutamente. E per un doppiatore come te, che tu fai anche il doppiatore, per un attore come te, che la voce è una cosa fondamentale, insomma, è stato un problema oppure no? No, è stata la scintilla che ha fatto scaturire il personaggio, perché se a partire da lì il laringofono non funzionava, l'imitazione del laringofono con la voce non funzionava, allora ci siamo, abbiamo abbassato tutto, e poi dopo in post-produzione hanno messo un piccolo trick per dare un po' la voce metallica, chiaramente chi avrà quella patologia non riconoscerà la verità, però dovevamo passare a livello drammaturgico, insomma. Stava quella, la sfida è stata quella allo start proprio del personaggio di Marcello. E stasera, cioè su Canale 5, la seconda puntata, e siamo così molto emozionati anche perché ottimi ascolti e poi verrà effettivamente molto bella. Senti, allora in questa serie la cosa importante anche affronta il tema anche delle parole, no? Sì. Cioè quanto le parole siano importanti e che spesso le parole, no? Come la macchina da scrivere che simula un po' il mitra, no? Le parole possono essere forti quanto i proiettili. Sì. C'è questa sfida appunto tra parole e proiettili. Questo tema è molto, molto, molto attuale purtroppo, no? Sì. Purtroppo, non purtroppo. Quanto il linguaggio, le parole siano un'invenzione straordinaria nella vita dell'uomo, però anche molto pericolose. Viviamo in un'era in cui nei social network basta un tweet, un messaggio per rovinare vite delle persone, carriere, eccetera. Una riflessione su questa cosa. Quanto è attuale o quanto è più pericoloso oggi il linguaggio rispetto all'ora, se usato male? Ma la parola è oggi più di prima ancora più importante, anche se diciamo diluita in questa sorta di ingordigia di immagini, ma oggi vediamo Putin e Zelensky che parlano in maniera diversa, si esprimono in maniera diversa. Churchill portò la lingua inglese al fronte, no? Cioè riuscì con le parole a far così insorgere, difendere un popolo. Le parole oggi sono più importanti di prima. Magari oggi c'è una asciuttezza, poche frasi, poche parole, come nei tweet, no? Possono effettivamente cambiare le sorti di un momento, anche di creare dei grandi problemi a livello… cioè la parola è incredibile, il potere che può portare insomma. Assolutamente. Senti, allora, serviva un po' una serie che raccontasse la mafia da un altro punto di vista, no? Sì. Cioè dal lato dei, tra virgolette, buoni, no? In questo caso dei giornalisti. Perché noi ci siamo un po' abituati, forse, insomma, anche troppo, non lo so, questo è un mio pensiero, a vedere la mafia raccontata dal punto di vista dei cattivi, no? Certo. Mancava l'origine del tutto e l'origine del tutto, guarda caso, è proprio lì dove è nata la mafia e quindi dove è nato il grande giornalismo d'assalto, perché questi hanno rischiato veramente la loro vita e il loro malgrado forse sono diventati eroi veri, come è stato poi Borsellino e Falcone. Ci voleva, io credo che ci voleva anche perché è realizzata benissimo con la Piero Messina e dagli altri registi, insomma, devo dire che hanno fatto un lavoro splendido, con un cast di eccezionale, insomma, di... Claudio Santamaria, tra gli altri, insomma, ma ce ne stanno tanto. Santamaria, Colella, De Marra, Ferracane, no, effettivamente, i giovanissimi, i giovanissimi sono fantastici, no, devo dire un lavoro favoloso. Senti, il tuo personaggio, Crisanti, è un personaggio molto orso, se vogliamo, un po' orso, però molto determinato, che vuole arrivare agli obiettivi, questo aspetto del suo carattere, no, appunto, l'essere forse un po' diverso dal tuo, no, tu comunque come persona invece sei solare, insomma, sei molto espansiva. Nel lavoro di un attore, no, tu che hai molta esperienza, è più facile recitare un personaggio che ti assomiglia o uno distante? Per me è più facile recitare uno distante, perché un personaggio che ti assomiglia spesso è come se non ti mettessi proprio una maschera, invece io, almeno io, ho bisogno sempre di una maschera, se tu ti metti una maschera riesci a dire cose che magari senza la maschera non sei in grado, a volte ci si dice anche di parlare, lui ha sempre una maschera quando parla, è perché è più facile, per me è più facile interpretare qualcosa di molto lontano da me, per me non mi riesce di più, insomma. Allora, parliamo un po' di te adesso, della tua carriera, allora, della tua carriera, che è già una carriera molto importante, hai lavorato con attori straordinari, con grandi registi, ci arriva un passo alla volta però, mi piace andare step per step, allora tu ti sei formato a Firenze, giusto, all'Istituto Salvemini, poi ti sei laureato anche in architettura, giusto? Quasi laureato in architettura, vabbè, comunque diciamo che stavi per arrivare a diventare un architetto, poi non sei diventato un architetto, però diciamo, hai fatto tutt'altro nella vita, diciamo, hai cominciato molto da giovane a lavorare, a lavorare veramente, cioè tu hai lavorato molto sulla voce, sul corpo, sul fisico, sulla mimica, sull'impostazione, diciamo, hai una base molto teatrale, se vogliamo, no? Tu, quando hai deciso di cominciare a fare l'attore, ho letto, ho letto, preparando un'intervista, che tu sei rimasto folgorato, folgorato, dalla lettura del Conte di Montecriso, è vero questa cosa? Sì, è verissimo, io per dire, quando ho cominciato a leggere, un mattone di mille, non uscivo più, non davo più esami, manca poco, non mangiavo, addirittura mia madre diciamo a Mauriziano per dire, esci, però non prendevo neanche il sole, come Edmond d'Antesse, volevo rimanere, cioè ero diventato, ecco, volevo interpretare, assolutamente, perché sei piccolo, sei un ragazzo, e un libro quando è scritto da Dio, cioè ti emoziona, insomma, era poi la prima serie, credo, in assoluto, che era un feuilleton, non francese, quindi usciva a puntate, quindi erano le serie dell'Ottocento, quelle, fantastico. Allora, tu, poi al contrario di molti colleghi improvvisati, hai lavorato appunto, come dicevo prima, hai fatto, tra virgolette, molta cavità teatrale, soprattutto, tu nasci soprattutto a teatro, diciamo, la tua formazione, nella compagnia di Ugochichi, l'Arcazzurra. Esatto, l'Arcazzurra, non un personale, un maestro, è un vero e proprio maestro, insomma, come ti sei formato. Allora, oggi i tempi sono un po' cambiati, no? Non tutti, ovviamente, molti attori hanno anche esperienza, hanno un percorso di formazione molto lungo, altri invece prendono delle scorciatoie e arrivano subito a me da dama, no? Se vogliamo, magari perché sono un po' influencer, magari per altri stratagemmi, ecco, se vogliamo. C'è un po' una mancanza di voglia di preparazione in questo lavoro, come un po' in tutte le arti, in tutti i veri mestieri, no? L'hai notato pure tu che c'è magari un po' meno voglia di fare cavette, di prepararsi prima di arrivare a certi livelli? Ma guarda, per un ragazzo piccolo, giovane, se raggiunge subito il successo è effettivamente accattivante. Ah, sì. Come il calciatore, poi, se c'è. Sì, il grande errore è diverso, nel senso, se tu arrivi prima al successo e non hai grande preparazione, sbaglieresti se dopo non ti prepari, perché se arrivi al successo però dopo non continui a studiare a prepararti, allora è brutto. Ok. Però se tu già arrivi al successo giovanissimo, sei intelligente se continui a studiare, so, danza, canto, voce, movimento, qualsiasi cosa, insomma. Se non lo fai, quello è sbagliato, ma raggiungere il successo così, sai, nel cinema poi se hai la faccia, insomma, si dice, oh, quello c'ha la faccia. E se c'è la perdone pure. Se c'è la faccia va bene. Certo, dopo poi i risultati si vedono. Assolutamente. Se non continui a prepararti, come tutte le cose. Certo, certo. Alla fine cadi. Esatto. Ti beccano. Alla fine ti dicono, eh no, caro, e ora basta. Beccano il trucco, il trucco viene svelato inevitabilmente. Senti, dopo, diciamo, tu hai lavorato al teatro all'inizio, no, con Zingaretti, anche al piccolo di Milano, giusto? Poi a un certo punto, a un certo punto ti prende Ridley Scott per fare All the Money in the World. E là, diciamo, che è stato il tuo primo, non so se dico una corbelleria, è stato il tuo primo approccio al vero cinema internazionale, giusto? Sì, anche se con Sorrentino, The Young Pop e The New Pop era comunque già un grande passo nell'internazionalità. Allora, com'è stato recitare per un maestro come Ridley Scott? Cioè, Ridley Scott nell'immaginario collettivo è una leggenda clamorosa, no? Com'è stato recitare? Che sensazione hai avuto a stare lì a recitare per lui? Ma guarda, te leggi l'infinito Leopardi, a un certo punto ti si presenta Leopardi e dice salve, sono Giacomo. E allora gli stringi la mano alla persona che ha formato la sua poetica, no? Arriva Ridley Scott, te sei innamorato di Blade Runner. Buongiorno maestro, è quello che ha scritto Fat Blade Runner. Non ci devi pensare, che se ci pensi è finito. Io ho visto cose che proprio sì. E ti dice pure, non mi piace come sei vestito, bisognerebbe, cioè capito? Ed è lì che ha aggiunto sliding doors, no? Non capisci? Dici no, capito com'è il discorso? Hai di fronte colui che ti ha formato, come insieme ad altri registi, insieme ad altri attori, cioè, becchi Dustin Hoffman, cavoli. Hai visto da piccoletto, Kramer contro Kramer, poi gli stringi la mano, ma tu sei quello di... Quel segreto è non pensarci, non devi pensare quello... Però guarda, è una grande emozione, almeno io mi emoziono sempre. Ah beh, certo. Quale emozione è la base della vita? Io mi stupisco, però effettivamente è molto bello, perché incontri la persona che ti ha regalato a distanza, inconsciamente, il tuo gusto, le tue preferenze a livello cinematografico. È molto bello. Allora, andiamo un po' avanti. La tua carriera, anche nella serialità, la tua carriera televisiva italiana, no? Viene confermata, insomma, dalla trilogia 1992-93-94. Poi sei un personaggio fisso nel cast di The Young Pop e The New Pop, come dicevi prima, appunto, di Paolo Sorrentino. Ed ecco qui che appunto fai l'incontro appunto con Sorrentino, che è un altro attore non di poco conto nella storia del nostro cinema. Allora, quando tu poi cominci ad avere i rapporti con questi registi, no? Ti viene voglia pure a te di dire, ma io più che attore voglio fare il regista. Non c'hai mai avuto sta pulsione? Sei sempre stato più della parte della regia, scusa, della livello attoriale. No, per osmosi ti viene. Perché comunque, ad esempio, Paolo se lo incontri è terribilmente accattivante come personaggio. C'è proprio nel suo insieme, come fuma il sigaro, come ti guarda. Quindi da attore tu vuoi fare il regista. Perché, capito? Poi chiaramente il regista, rispetto ad altri mestieri, come direttore d'orchestra, sono mestieri totalizzanti, hanno un grande potere i registi. Diceva Sidney Lumet, sarebbe meglio non usarlo, il potere di un regista, perché è vastissimo. E per me, che sono attore, che vivo di immagine, di affascinazione, incontrare uno come Paolo, chiaramente ti viene voglia di passare di là, dall'altra parte della macchina. In teatro l'ho fatto, ho diretto un sacco di cose. Sì, sì, no, no, dicevo al cinema. Sì, a mia così. Al cinema bisogna vedere se sento il bisogno di raccontare una storia che altri non me la fanno raccontare. E magari mi viene l'idea, perché no, insomma. Sicuramente potrebbe essere un'opposione. Allora, recentemente ti abbiamo anche visto nella serie appunto Monterossi con Fabrizio Ventivoglio, ti abbiamo visto al cinema con Tapirulan, poi School of Mafia, Mettina Nonna e Freeza, insomma tu hai fatto tantissime cose, hai fatto già tantissime cose. Allora, e hai recitato appunto con tanti attori bravissimi, no? E anche attori internazionali, appunto, Giondlo e Malkovic. Ti chiedo, c'è ancora qualcuno con cui vorresti lavorare? Immagino di sì. Sì, no, è pieno. Ma chiuso che io ultimamente... Una lista? No, incredibile. Cioè, c'hai a casa una lista in cui dipendi poi i nomi piano piano che ce l'ho? Quello lo facevo con i registi. Ancora me ne manca tre, diciamo. Tre ce n'hai? No, tre sarebbe, stupendo, ma ancora bisogna vedere, insomma. Non me li vuoi dire però i nomi. Ma uno è Nolan. Ah, beh. Un altro è Paul Thomas Anderson. E un altro è il grandissimo Jacques Odiard, francese. Eh, beh, però aspetta, però non è detto, insomma. Ma non lo so, però... C'è una carriera ancora lunga. Ma io non me lo auguro, però sono questi tre miti che vorrei incontrare, insomma. Allora, Hai avuto modo di lavorare anche all'estero, ovviamente, no? Che percezione hanno del cinema italiano all'estero? No, loro ci adorano, totalmente. Martin Scorsese, boh, penso si sia visto qualsiasi cosa prodotto in Italia, anzi, in un'intervista diceva, ma perché non fate più quei film così belli che io guardavo? Tra lui e Leonardo DiCaprio fa una gara, forse, che ne ha visti di più. No, il cinema italiano è amatissimo. Tuttora si sta ritornando alla grande, anche grazie alle serie, perché stanno arrivando anche ottimi produttori che sono molto attenti al panorama internazionale. E l'Italia sta tornando alla grande, insomma, un po' come l'Italia del tennis. Assolutamente. Perché siamo molto amati, molto amati, poi chiaramente è difficile, perché di là sono preparati e non hanno mai smesso di produrre, insomma, sono una vera propria industria. Però credo che il nostro cinema, anche grazie alle serie, sta tornando alla grande. Pure Tarantino ci ama tantissimo. Capito? Assolutamente, non solo. Ma tanti hanno formato la loro carriera. Assolutamente. Martin Scorsese, Tarantino e altri hanno formato addirittura un altro regista, si è ispirato proprio al divo di Paolo Sorrentino per fare la figura interpretata da Christian Bale nel Vice Presidente degli Stati Uniti, non mi ricordo il titolo. Però, insomma, noi siamo una bottega, ma di altissimo livello, altissimo livello. Allora, a proposito di sport, qua stiamo piano piano entrando verso l'ambito più da Corriere dello Sport, è vestito, tra l'altro, Maurizio, oggi, il nostro onore, è venuto vestito con la divisa, la tennis, giusto? Quasi, solamente la parte iniziale. Soltanto la parte alta, perché è saltata la partita all'ultimo, se no saresti venuto pure col pantaloncino, in omaggio ai nostri campioni del tennis e ci dirai anche il tuo livello, ma poi arriveremo dopo a parlare proprio di tennis vero, di tennis giocato. Allora, a proposito di sport, tu hai partecipato anche appunto al film Tiger, in cui hai appunto indossato i panni di un dirigente dell'Inter, nella drammatica storia appunto di Martin Benson. Allora, tu col calcio, il tuo rapporto col calcio com'è, per prima di parlare del tuo sport preferito che un altro, com'è? Il mio rapporto col calcio è un po' vintage. È un po' vintage? Un po' vintage, nel senso che mi piacevano le grandi squadre giocolandese, mi piaceva il grande Milan, mi piaceva il grande Milan di Rijkaard, Gullit e Van Basten. Per me Van Basten è il più grande giolatore di tutti i tempi, per me poi, perché erano elegantissimi vedere anche Gullit con quell'esplosione di treccine in mezzo all'area con cross di Rijkaard, ragazzi, ma poesia pura. Però io tifo viola perché mio padre è un grande tifoso della Fiorentina. Poi è stato in Firenze. Sì, però, perché vedo che mio padre soffre, e vede e soffre, appena vede la Fiorentina è lì che addirittura non la guarda, cioè è proprio un mondo che all'inizio lo criticavo, e poi giustamente dice, ma io ho quella stessa sofferenza quando parlo del cinema, del teatro, quindi l'ho capito e l'ho accettato. Perché lo sport non è solo l'evento, ma è tutto quello che ci gira intorno, le emozioni che suscitano. È una delle più grandi drammaturgie non scritte della vita di un uomo. Molto cinematografico. Mamma mia, è eccezionale. È proprio un film, è un film, vengono fuori film bellissimi. Allora, a proposito appunto di sogni e obiettivi, allora c'è una grande storia di sport che ti piacerebbe raccontare al cinema? Ma guarda, ultimamente è uscita una squadra di procacci su Sky, che devo dire una serie veramente favolosa, quasi una epifania per chi ama il tennis come me. Non ti dico che da quella serie lì potrebbe venire fuori una splendida serie su quei Fabulous Four che erano Barazzutti, Zuccarelli e Bertolucci e Panatta. La peschia a caso, interpreti chiunque. Ma sono quattro meravigliosi, a parte i tennisti della Madonna che sono stati precursori di cose che ancora ce li invidiano. Ma poi effettivamente la storia, perché in quella maniera lì racconti l'Italia, non tanto il tennis. Cioè quella storia è bella perché racconta l'Italia, la storia, ha raccontato Pinochet, ha raccontato il Cile di quegli anni, ha raccontato il tempo degli anni 70, il terrorismo. È una serie favolosa. Sì, effettivamente uno sportivo mi piacerebbe interpretarlo, perché lo sport drammaturgicamente è perfetto. Assolutamente. Cioè uno sceneggiatore ti direbbe che hai la sceneggiatura perfetta. L'inizio, il centro, la fine. Ma parliamo un po' del tennis, che è la tua passione sportiva ovviamente. Allora, come ti ci sei a vincere? Cioè tu da sempre sei una passione di tennis o una cosa fresca? Io giocavo a tennis, dovevo diventare giocatore di tennis, era arrivato lì per classificarmi, poi chiaramente avevo già preso la strada, però insomma ho iniziato, i miei inizi sono abbastanza eccellsi perché ho iniziato al match ball di Firenze e mi piace molto lo stile. Io credo di non aver fatto il tennista perché come in tutte le cose che faccio mi comporto da attore. vedo una cosa, cerco di farla al massimo, però se l'attore non deve vincere, deve dare l'idea di... Quindi io per dire, entravo in campo, ero già alto, tiravo delle botte incredibili, nei palleggi i ragazzi di là praticamente si impaurivano perché tiravo delle botte incredibili, arrivavo in partita, perdevo 6-0, 6-0 perché l'altro era più scaltro. Perché chi gioca a tennis è una persona molto furba, io furbo non sono, penso solo allo stile e quindi perdo. Senti un po', ma sai che adesso ci sta un po' questa, tra virgolette, un po' antipatia tra chi gioca a tennis e chi gioca a padel, il padel è la moda del momento, parecchi giocano a padel e si dice che chi gioca a tennis non gioca a padel perché lo trova un po' tipo racchettoni ecco se vogliamo. Tu sei un po' testa cosa oppure giochi pure a padel? C'hai provato? Che cos'è il padel? Bene, ok, mi fa la risposta perfetta. Ok, benissimo. Allora, parliamo un po' anche di Berrettini perché mi piace parlare con te di Berrettini. Allora, Berrettini è l'emblema un po' della rinascita del tennis italiano, no? Ci sta lui e ci sta Sinner, sono diciamo i due coloro che ci stanno riportando un po' in alto, no? C'è anche Soneco, ce ne stanno tanti, Musetti che stanno venendo fuori. Questi tennisti italiani però hanno un po' anche dei problemi fisici perché a volte mi cascano in infortuni, non solo loro ovviamente, è perché si gioca troppo. Il tennis sta diventando un po' come il calcio perché sai poi alla fine lo sport tende un po' si tende a eccedere per vendere il prodotto, no? Il calcio è l'apice di tutto questo, il tennis che è il secondo sport come mi ricordavi giustamente tu prima, italiano in Italia, si tende un po' a giocare troppo, questi giocatori di tennis non sono un po' troppo sfruttati, spremuti secondo te? Guarda, la prova la dà il fatto che grazie a queste piattaforme oggi segui i tornei che prima seguivi gli Open, qualche altro torneo importante, magari Monte Carlo, gli internazionali perché andavo a vedere, sto a Roma, ma ora il Queens, Boss, oppure anche Stoccarda, io Stoccarda l'avevo mai visto, oppure mi sono messo lì a vedere il torneo di Stoccarda, sì ora c'è un, come sempre, quando una cosa va tutti la vogliono e di conseguenza questi ragazzi sono, però attenzione, loro questi tornei li fanno da sempre, non è che giocano molto di più, è che loro giocano da sempre, siamo noi che li seguiamo molto di più rispetto a prima, chiaramente oggi il tennis invece ha preso una autostrada fisica e mentale talmente alta che gli infortuni per uno sport come il tennis arrivano, perché le giunture, tutto quello che usi per giocare è messo in il tedesco che si è infortunato contro Nadal, insomma è stata una cosa agghiacciante, è stato un infortunio che è bruttissimo, tra l'altro bruttissimo anche proprio per il momento in cui è arrivato, la semifinale Roland Garros, era tre ore e mezzo di gioco, erano ancora il primo set e mezzo, quando Nadal ha liquidato Rude in un'ora e quaranta, è stato veramente un peccato là, là è stato veramente un peccato mortale, esatto, ora io Berrettini, fenomeno, perché sei già infortunato credo per la quarta volta, è tornato dopo l'operazione alla mano e ha già vinto il boss, 250 insomma, e ora sta andando alla grande, ma io tifo veramente per questi quattro ragazzi, Musetti, Sonego, Sinner e Berrettini, perché sono veramente bravi e hanno un grandissimo tennis che è diverso, hanno veramente un grandissimo tennis che è, come dire, riesce a rivaleggiare con i grandi tennisti che sono appunto da seco tedeschi, russi e spagnoli, spagnoli ora fanno pressione, c'è questo Alcarazze, mamma mia. Alcarazze infatti è destinato a diventare... Sì, che ha un diritto, ma dentro è una fucilata. È una fucilata, sì, infatti. Non ho capito come fa, però... Senti, ma, ultima cosa, poi chiudiamo, dei tre chi è quello che, per cui tu stravedi, dei tre top, Diokovic, Nadal e Federer? Federer ormai non gioca praticamente quasi più, però, sai che, chi ama il tennis? Io lo stile, metto davanti lo stile. Amo Federer. Il re è Federer. Ok. L'ancillotto, Re Artù è Federer, l'ancillotto è Nadal. Vabbè, ce la caviamo così, ce la caviamo così. No, Federer è tutta la vita, è il più grande giocatore di tutti i tempi. Senti, un'ultima domanda sul tuo prossimo futuro. Dove ti vedremo? Ho letto che sarai protagonista di una serie internazionale, Replay, giusto? Sì, è forse uno dei più bei lavori che ho fatto dopo Paolo Sorrentino, e anche, comunque dopo l'ora, è questo Replay con la regia di Steve Zahelian. È un prodotto da Showtime, io ho un bellissimo ruolo che me lo sono proprio gustato alla grande. Siamo negli anni Sessanta, Ispettore Polizia, Baffo, Sigaretta, una macchina pazzesca. Quindi siamo in piena Italia degli anni Sessanta del boom del dopoguerra, quindi periodo eccelso per poter rappresentarlo. Nell'ora tu hai questo sguardo che è un po' uno sguardo western, se vogliamo, che non è questo, con quest'occhio a bordo. Eh, però tu ce l'hai però, ce l'hai lo sguardo western? Lo sai che ce l'hai, insomma? No, l'ho dovuto fare perché... Ah, no! Ma avevo detto, ma deve essere un po' western, ah sì, allora vai a vedere come facevano quella cosa. Però cercando di, insomma, di essere credibile, capito? Poi, ma diciamo che lo sguardo è nato dal fatto che questi fumavano in continuazione, che durante il sette... Allora ci hanno sempre questa cosa, forse nella redazione si sta così perché... Sì, una volta sì, una volta sì. Senti, e poi anche rapiniamo il Duce, giusto? Ci sarà questo film... Rabe Mussolini, di Renato De Maria. Sì, sì. Io gli faccio una specie di conte, insomma, anche lì un bellissimo cast, Matilde De Angelis, c'è poi anche... Castellitto. Castellitto, insomma, bel cast, su questa fantomatica storia del tesoro del Duce, che ancora non è stato trovato, ma sembra che ci sia da qualche parte. E per scoprirlo dovremo vederlo su Netflix, dovremo aspettare un pochettino. Allora, Maurizio, ti ringrazio intanto di essere stato nostro ospite. Grazie a te, Simone. Sono veramente felice di essere qui. La prossima volta col pantalocino, però. Assolutamente. Se lo devi fare, con la racchetta in mano, facciamo le cose fatte per bene. Non a metà. Non facciamo il lavoro a metà. Arrivò la borsa, con le bevande, metto qui, mi asciugo. Tutto sudato, ti metti e te faccio. Guarda, ti asciugui qua. Ti asciugui qua. Grazie mille davvero, alla prossima. Grazie a voi. Un saluto ai nostri amici, a presto. Grazie a voi.